Ciao ragazzi, mi hanno chiesto di fare un video che racconti un po' Lucca Comics, lo faccio oggi che è domenica, sono finalmente un po' più tranquillo. Comunque, Lucca è una... Lucca... le mille anime di Lucca. Lucca è la mostra per tutti, è la mostra dove ci sono i ragazzi, dove la gente si veste, fa allegria, è la mostra dove potete trovare tavole originali, fumetti di antico reato, ma anche il fumetto moderno, il fumetto creato. E qui noi, come dico sempre, è quello che prepariamo tutto l'anno per poter venire a Lucca. Io devo ringraziare innanzitutto i miei collaboratori, i ragazzi che collaborano con me, a partire da Elena Mirulla, che è la regina di Lucca, ma non è l'unica, e attenzione, che è stata sempre presa d'assalto, ma anche Giulia Lalli, Daniele Zaccagnino, Luca Franceschini, Lorenzo Balocco, Luciano Costarelli, tutti! Per fare alcuni nomi, sicuramente sto scornando più di qualcuno, ma tutti i ragazzi che sono stati con noi allo stand per fare autografi, disegnini, per rendere speciale la Lucca dei nostri lettori. E sui nostri lettori permettetevi ancora di dire qualche cosa, perché veramente io vi devo ringraziare, devo ringraziare tutti coloro che ci sostengono, tutti coloro che apprezzano il nostro lavoro, tutti coloro che vengono a Lucca, ma non solo a Lucca, però a Lucca in particolar modo, e ci danno il loro appoggio morale e non solo. Ho visto tanti volti sorridenti, ho visto tanti amici, ho rivisto tante persone che avevo voglia di vedere, che sono venuti a darci il loro sostegno, ma anche un sorriso. Ma quanto è importante questo per noi, quanto è importante per i nostri autori, per loro come noi che cercano di fare, insomma, sorridere la gente e di sognare insieme a voi. Lucca è stato un momento importante e grandi soddisfazioni, io lo voglio dire, per noi è... Lucca cresce di anno in anno, noi cresciamo insieme a Lucca e cresciamo insieme ai nostri lettori. Ecco, questa per noi è Lucca, io ringrazio veramente tutti, stiamo già lavorando incredibilmente, alla Lucca dell'anno prossimo. Ma attenzione, di mezzo c'è Lucca collezionando, perché è una nuova fiera, una nuova fiera, dove ormai siamo al terzo anno, ma dove noi siamo protagonisti, dove anche quest'anno saremo protagonisti in maniera speciale perché Elena Merulla terrà un corso, ma non sarà sola, insieme a lei ci saranno Lorenzo Valocco e Luciano Costarelli, quindi si farà un corso prima per i bambini, un corso di prima base, ma poi ci sarà un corso di approfondimento, anche un corso di colore, e poi ci saranno Daniela Zaccagnino e Luca Franceschini che terranno un corso sulla sceneggiatura. Insomma, Luca per noi è una piazza importante, è una piazza dove vogliamo metterci tutto, la nostra voglia di fare e insomma ci saremo anche noi alla prossima Lucca Collezionando. Vi aspettiamo, ciao ragazzi!